Musica 1864-2014 sono i 150 anni di storia del liceo classico Bonaventure a Secuse di Caltagirone, la più antica e presigiosa istituzione scolastica della città. In occasione di tale evento, su iniziativa della preside Concetta Mancuso, a partire dal 9 ottobre si svolgeranno una serie di manifestazioni ed eventi culturali che si protrerranno per tutto il corso dell'anno scolastico. È un anno particolare perché ricorre il 150esimo della fondazione del liceo classico Secusio. Per volontà del Consiglio Comunale di Caltagirone nel 1864 si istitui un liceo a Caltagirone per evitare che i ragazzi potessero andare a Catania. Un secolo e mezzo di storia dunque, che partendo da lontano 1864, anni in cui il Consiglio Comunale di quei tempi, grazie all'interessamento dell'Onorevole Filippo Cordova e del Cavaliere Francesco Camarata Sovazzo, fondarono questa istituzione scolastica. Una scuola dunque di alto valore formativo che annovera fra i ghi ex allievi, anche i nomi di Luigi Stuzzo e Giorgio Arcoleo. Tra gli allievi più illustri il liceo annovera Giorgio Arcoleo, Mario Sturzo e Luigi Sturzo, Silvio Milazzo, Mario Scelba, Carmelo Caristia. Speriamo che anche oggi da questo liceo possano uscire i futuri politici, i futuri uomini di cultura che possano migliorare la nostra società. In occasione del 150esimo anno di fondazione si sono costituiti un comitato tecnico-scientifico del quale faranno parte molte autorità. E' un comitato organizzativo ai due organismi affencati da rappresentanze di genitori e studenti. Spetterà invece il compito di promuovere l'intero ciclo delle manifestazioni. Premieremo le ragazze che hanno ideato il nuovo logo della scuola e poi le conclusioni del sottosegretario di Stato al MIUR, la senatrice Paola Donghia, che ci onorerà della sua presenza. Oggi il liceo Secusa di Caltagirone conta una popolazione scolastica di oltre 800 studenti, di cui circa 250 impegnati nella formazione classica e restanti 500 che hanno scelto come piano di studi il liceo linguistico.